Buongiorno oggi 19 aprile 2024 mi sto trovando qui a Villa Bombrini in occasione del robot Vallei Genova e qui in compagnia Marco Faimali. Buongiorno sono Marco Faimali, sono un direttore dell'istituto del CNR ma vi accompagno oggi a visitare questo evento che sarà un evento di due giorni, organizzato dal progetto RACE che io rappresento, sono uno degli spot leader di questo progetto che vuole portare sul territorio un progetto da 110 milioni di euro, questo è il primo evento che facciamo mettendo insieme i progetti di ricerca di questo progetto RACE, sono dedicati a robotica e intelligenza artificiale declinate su quattro macro aree importanti per la regione, cioè la salute e quindi le persone, la città inclusiva, il monitoraggio dell'ambiente e la portualità, il porto green, quindi tentando di sfruttare le potenzialità della robotica, dell'intelligenza artificiale per produrre nuove tecnologie adatte e pronte per il mercato, quindi questo non è un progetto vero o proprio di ricerca, è un progetto di trasferimento tecnologico e abbiamo costruito questo evento che si chiama Robot Valley cercando di comunicare la scienza in maniera diversa, cioè contaminarla con l'arte. Io sono già entrato, ho curiosato qualcosa, ho visto l'istituto tecnologico qui a Morego che presenta i suoi prodotti, i suoi studi. È uno dei 25 partner che si occupano di robotica insieme all'Università di Genova, insieme al CNR, insieme all'INNGU, insieme all'Enea e insieme a molte aziende del territorio che ovviamente si occupano di questo tipo di tecnologia e quindi tutti insieme costituiamo il progetto RAISE. Robot Valley vuole essere un primo esempio, l'anno prossimo ci sarà una versione molto più grande, è un prequel di due giorni, abbiamo l'ambizione l'anno prossimo e il sindaco stamattina ci ha detto che ci aiuterà a realizzarla, di farla in centro città che possa durare una settimana. Ma sempre con questo stile, mettendo insieme scienza e arte per comunicare i risultati importanti che questi progetti PNRR ci stanno portando. E vi porto adesso a vedere la sala dove abbiamo allestito le demo di robotica. Facciamolo vedere anche ai... Sì, è bellissimo. Ci sono diverse postazioni in cui le persone che visiteranno in questi due giorni l'evento potranno dialogare con i ricercatori, ma soprattutto interagire direttamente con i robot che sono già stati sviluppati, sono pronti e ognuno ha una sua particolarità, una sua applicazione. Sì, sì, ma io poi pubblicherò i video che ho fatto a ognuno di loro e in specifico sarà molto interessante. E questo è soprattutto per invogliare i giovani, no? Ma in realtà per invogliare tutti a non avere timore dei cambiamenti, timore delle innovazioni, non avere paura delle robot che non ruberanno il lavoro a noi, ma ci daranno una mano a lavorare e stare meglio. Sì, c'è questo discorso. E non avere paura dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale sarà sempre più parte della nostra vita. Ma non dimentichiamoci che è creata da chi ha l'intelligente naturale, dall'uomo. Quindi viene fatta in maniera veramente intelligente e verrà, mi auguro, sfruttata anche quella per migliorare la vita. Come dicevo, il nostro progetto mira a migliorare le possibilità di gestire l'uomo, la città e l'ambiente attraverso queste nuove tecnologie. Va bene, Marco. Benvenuti e grazie. Tanto piacere e grazie mille, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.